L'intitolazione di una strada è sicuramente una maniera che il pubblico ha per ricordare chi queste strade le ha costruite, le conosceva nella parte dell'asfalto ma anche nella parte delle fognature. Così Renato Furlanis, figlio del commendatore Giovannino, in merito alla intitolazione della strada all'ideatore, verso la fine degli anni Sessanta, del complesso nautico Laghi di Sibari, che nel tempo è diventata una grande attrattiva per turisti e diportisti di tutta Italia e dall'estero ed una delle eccellenze del patrimonio naturalistico di cui è dotato il comune di Cassano all'Oionio. Con Renato abbiamo fatto un viaggio a ritroso, precisamente dal 1967, con l'acquisto dei terreni e la bonifica per la costruzione di un fabbricato idrovoro e canale di bonifica per permettere il prosciugamento dei terreni. Nasce intorno agli anni Sessanta, quando Giannino Furlanis viene a operare con l'impresa idile per le autostrade in Calabria e dalla sua esperienza di bonificatore, vede che in questa zona si può costruire, si può arrivare a bonificare e allo stesso tempo a edificare una marina. Marina che è la marina di Sibari, marina che all'epoca, quindi negli anni Settanta, diciamo era qualcosa di veramente innovativo per la Calabria e così lo è stato. Sicuramente non fu facile bonificare una palude. Ci sono voluti dieci anni di fatiche, sicuramente operative, di permessi, di lotte anche, in un momento in cui gli anni Settanta anche la presenza dello Stato non era così forte. Tra il 1977 e il 1978, l'ultima azione dello scavo d'Arsene. Quanta forza lavoro venne impiegata per la costruzione dei lag di Sibari? Innanzitutto parliamo di una forza lavoro che non erano più salariati, ma era personale con busta paga, che era un po' una novità in quest'area. E logicamente qui ci hanno lavorato decine di persone direttamente, più molte imprese locali e con il loro personale. Grande festa poi nel 1979 con il taglio e l'apertura delle porte vinciane, sottolineata anche dall'arrivo della regata da Caorle. Le prime costruzioni furono le Terramare, una sorta di villette costruite proprio nelle Darsene. Le Terramare erano un punto di aggregazione e lo sono stati per molti anni per turisti che venivano dal nord Italia, da Roma, da Napoli e invece i posti barca e quindi il porto sicuro per turismo straniero che solitamente percorreva la parte dello Ionio per andare in Grecia. In questi anni com'è cambiato il complesso nautico laghi di Sibari? Siamo sempre stati ai laghi, quindi abbiamo visto tutti i suoi processi sia difficili, con difficoltà e momenti critici, sia di momenti migliori. Siamo sicuramente in una fase di ripresa in cui i servizi funzionano, in cui le attività sportive hanno ripreso, il canale per la maggior parte è aperto e c'è ancora qualche sforzo da fare. Oltre alla intitolazione della strada al commendatore Giovannino Furlanis, strada che attraversa il centro commerciale dei laghi di Sibari, anche un busto a futura memoria dell'operato di un uomo che pur essendo nato e vissuto al nord decise di investire nella nostra terra, colpito dalla suggestiva bellezza dei luoghi ove fu l'antica Sibaris, ideando e realizzando quella che fu definita la piccola Venezia del sud.